Prima lettera ai Tessalonicesi Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo Grazie a voi e pace Rendiamo grazie a Dio sempre per tutti voi ricordandovi nelle nostre orazioni avendo incessantemente presente davanti a Dio e nostro Padre l'opera della vostra fede lo sforzo della vostra carità la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo Conosciamo, o fratelli amati da Dio, la vostra elezione poiché il nostro Vangelo non è giunto a voi soltanto a parole ma anche con potenza con effusione dello Spirito Santo e con piena convinzione Sapete infatti come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene e voi siete diventati imitatori nostri e del Signore accogliendo la parola in mezzo a molta tribolazione con la gioia dello Spirito Santo sì da divenire voi esempio a tutti i credenti in Macedonia e in Acaia Da voi infatti la parola del Signore è risuonata non solo in Macedonia ma in ogni luogo si è diffusa la fama della vostra fede in Dio tanto da non avere noi bisogno di parlare Gli stessi abitanti infatti raccontano di noi quale accoglienza abbiamo avuto da voi e come vi siete convertiti a Dio dagli idoli per servire il Dio vivo e vero e per aspettare dai cieli suo figlio che egli risuscitò dai morti Gesù che ci libera dall'ira che viene Voi stessi sapete, fratelli, che la nostra venuta tra voi non fu vana ma dopo aver prima sofferto ed essere stati insultati a Filippi come siete a conoscenza abbiamo preso l'ardire in Dio nostro di annunziare a voi il Vangelo di Dio in mezzo a molti ostacoli La nostra esortazione non è dettata da errore né da malafede né da inganno ma come siamo stati fatti degni da Dio ad essere incaricati del Vangelo così parliamo non per piacere agli uomini ma a Dio che scruta i nostri cuori Già mai infatti siamo ricorsi a parole di adulazione come sapete né a pretesti ispirati da interesse Dio è testimone neppure abbiamo cercato dagli uomini la gloria né da voi né da altri pur potendo essere di peso come apostoli di Cristo siamo stati al contrario affabili con voi come una madre che cura premurosamente i suoi figli così noi desiderandovi ardentemente eravamo disposti a comunicarvi non solo il Vangelo di Dio ma la nostra stessa vita tanto ci eravate diventati cari voi ricordate infatti o fratelli le nostre fatiche e i nostri stenti lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio voi siete testimoni e lo è Dio stesso come in maniera pura giusta e irreprensibile siamo stati con voi che avevate creduto così anche sapete che come un padre fa con ciascuno dei suoi figli vi abbiamo esortato incoraggiato e scongiurato a camminare in maniera degna di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria perciò noi non cessiamo di ringraziare Dio perché ricevendo dalla nostra voce la parola di Dio l'avete accolta non come parola di uomini ma com'è realmente parola di Dio la quale è potenza in voi che credete infatti voi o fratelli siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù poiché voi pure avete sofferto le stesse persecuzioni da parte dei vostri compatrioti come quelle da parte dei Giudei i quali uccisero il Signore Gesù e i profeti e perseguitarono noi essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini e ci impediscono di predicare alle genti affinché si salvino per riempire sempre più la misura dei loro peccati ma l'ira è giunta su di essi per la fine ma noi o fratelli orfani di voi per breve tempo con la presenza non con il cuore ci siamo con estrema premura preoccupati di rivedere il vostro volto proprio per questo avevamo deciso di venire da voi io Paolo una prima e una seconda volta ma Satana ce lo ha impedito chi infatti è la nostra speranza la nostra gioia e la nostra corona di gloria davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua parusia se non proprio voi voi certo siete la gloria e la gioia nostra perciò non potendo più resistere abbiamo preferito rimanere in Atene soli e inviare Timoteo fratello nostro e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede affinché nessuno sia sconvolto in queste tribolazioni voi stessi ben sapete che a questo siamo destinati quando infatti eravamo tra voi vi predicevamo che avremmo dovuto subire tribolazioni come è accaduto e voi sapete perciò non potendo più resistere ma andai a prendere notizie della vostra fede nel dubbio che il seduttore vi avesse tentato e che vana fosse stata la nostra fatica proprio ora Timoteo da voi è tornato a noi e ci ha portato buone notizie sulla vostra fede sulla vostra carità sul buon ricordo che sempre conservate di noi desiderando ardentemente di rivederci come noi desideriamo rivedere voi così fratelli abbiamo trovato in voi conforto in ogni avversità e tribolazione a motivo della vostra fede ora sì che noi viviamo poiché voi state saldi nel Signore quale azione di grazia dunque possiamo rendere a Dio per voi a motivo di tutta la gioia che godiamo a causa vostra innanzi al nostro Dio notte e giorno insistentemente preghiamo di rivedere la vostra faccia e colmare ciò che manca la vostra fede che lo stesso Dio e Padre nostro e il Signore nostro Gesù ci spianino la via verso di voi il Signore faccia poi crescere voi e sovrabbondare nell'amore scambievole e verso tutti come anche noi sentiamo verso voi affinché confermi i vostri cuori irreprensibili nella santità davanti a Dio nostro Padre nella venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi per il resto fratelli vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù Cristo come avete appreso da noi il modo di vivere e di piacere a Dio e come già vivete così progredite sempre più voi sapete quali prescrizioni vi abbiamo dato nel Signore Gesù questa infatti è la volontà di Dio la vostra santificazione che vi asteniate dall'impudicizia che ciascuno di voi sappia tenere il proprio corpo in santità e onore non abbandonandosi alle passioni come fanno i pagani che non conoscono Dio nessuno fuorvii e defraudi in questa materia il proprio fratello poiché il Signore è vindice di ciò come già vi abbiamo detto e testimoniato Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità ma alla santità pertanto chi disprezza questi precetti non disprezza un uomo ma Dio che dona a voi il suo santo spirito quanto all'amore fraterno non avete bisogno che ve ne scriviamo perché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi scambievolmente e lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia vi esortiamo fratelli a progredire maggiormente a studiarvi di vivere tranquilli ad attendere ai propri negozi a lavorare con le vostre mani come vi abbiamo raccomandato in modo che vi comportiate con onore di fronte a quelli di fuori e non abbiate bisogno di alcuno non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza o fratelli riguardo a quelli che dormono affinché voi non siate afflitti come gli altri che non hanno sveranza se infatti crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato così Dio riunirà con lui anche quanti si sono addormentati in Gesù questo infatti vi diciamo sulla parola del Signore che noi i viventi i superstiti non precederemo nella venuta del Signore quelli che si sono addormentati poiché il Signore stesso al segnale dato dalla voce dell'arcangelo dalla tromba di Dio discenderà dal cielo e i morti che sono in Cristo risorgeranno per primi quindi noi i viventi i superstiti insieme con essi saremo rapiti sulle nubi per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore pertanto consolatevi gli uni e gli altri con queste parole circa il tempo e l'ora o fratelli non avete bisogno che ve ne scriviamo voi stessi infatti sapete perfettamente che il giorno del Signore arriva come un ladro di notte quando diranno pace e sicurezza allora improvvisamente precipiterà su di essi la rovina come i dolori del parto sulla donna incinta e non sfuggiranno ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro infatti voi siete tutti figli della luce e figli del giorno non siamo né della notte né delle tenebre pertanto non dormiamo come gli altri ma vegliamo e siamo temperanti quelli che dormono dormono di notte e quelli che si inebriano si inebriano di notte noi invece che siamo del giorno siamo sobri rivestiti con la corazza della fede e della carità avendo per elmo la speranza della salvezza Dio non ci ha destinati all'ira ma all'acquisto della salute per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo sia che ci addormentiamo con Lui viviamo perciò consolatevi gli uni gli altri edificandovi scambievolmente come già fate vi preghiamo fratelli di apprezzare quelli che faticano in mezzo a voi e vi presiedono nel Signore e vi ammoniscono stimateli sommamente nella carità a causa della loro opera vivete in pace tra voi stessi vi esortiamo fratelli correggete gli indisciplinati incoraggiate i pusillanimi sostenete i deboli usate pazienza con tutti guardate che nessuno renda a un altro male per male piuttosto studiate sempre di fare il bene gli uni agli altri e a tutti siate sempre lieti pregate senza interruzione rendete grazie in ogni cosa questa è la volontà di Dio a vostro riguardo in Gesù Cristo non spegnete lo spirito non disprezzate le profezie esaminate ogni cosa ritenete ciò che è buono tenetevi lontano da ogni sorta di male egli stesso il Dio della pace vi santifichi totalmente e tutto il vostro essere spirito anima e corpo siano custoditi irreprensibili per la parosia del Signore nostro Gesù Cristo fedele è colui che vi chiama egli porterà tutto a compimento fratelli pregate anche per noi salutate tutti i fratelli con un bacio santo vi scongiuro nel Signore che questa lettera sia letta a tutti i fratelli la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi